Commedia e tragedia, musica classica e contemporanea, tradizione e innovazione, drammaturgia e letteratura di ieri e di oggi. Sono questi i binomi che danno vita alla stagione 2018-2019 del Teatro Puccini di Alto Pascio. Una proposta sempre più ricca per titoli, uno in più dello scorso anno con nove spettacoli, e per genere, quest'anno infatti, alla prosa e alla musica, si aggiunge la danza. Uno spettacolo di danza che, tra l'altro, sarà preceduto da un laboratorio con le scuole di danza del territorio. Quindi è una novità molto importante perché punta al coinvolgimento di ulteriore pubblico, di giovani del posto. Il calendario degli appuntamenti, realizzato da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, in collaborazione con il Comune, si configura come una miscela estremamente variegata di generi spettacolari, con l'obiettivo di rivolgersi ad un pubblico multiforme, sia per età che per interessi. Un cartellone capace di offrire intrattenimento tanto agli spettatori abituali, quanto a chi si avvicina al mondo della prosa, della musica e della danza, per la prima volta. Puntiamo molto sulla qualità della nostra programmazione. È un teatro in crescita, il Teatro di Alto Pascio. Gli abbonati sono in continua crescita e per questo noi continuiamo a collaborare con Fondazione e continuiamo a promuovere la nostra stagione e promuovere il nostro teatro. Venite al teatro perché portare avanti la cultura attraverso questo strumento è importante e noi ci crediamo molto.